Hanno chiuso il canale a con casloquendo 98. È una cosa disgustosa ed inammissibile un canale che stimavo tantissimo gestito da un ragazzo bravissimo. Gli hanno detto che ha violato le norme di Google+, che spammava ma non è vero, poi i suoi video erano di qualità, alcuni divertentissimi ed altri che portavano contenuti profondi ed intelligenti. La chiusura di un canale come il suo mi mette una tristezza assoluta, noi soldati ti seguiremo nelle future scelte che farai. YouTube non può perdere uno YouTuber del genere, anche se forse YouTube non lo merita nemmeno uno grande come te. Metterò lo schermo nero perché è un po' un video di protesta, diciamo, perché è un po' non lo trovo giusto, trovo veramente un'ingiustizia che venga chiuso un canale a una persona, a uno YouTuber come lui, mentre su YouTube ci sono tanti altri che fanno i porci comodi loro e hanno una certa protezione, si vede, non so, gli è concesso tutto e poi sinceramente sono dei canali che non portano dei contenuti, non hanno... e quindi fa specie vedere che rimangono su YouTube dei canali immondi, veramente proprio una schifezza che sicuramente non danno un buon esempio a questa società, anzi, l'abbruttiscono ancora di più e invece quando uno porta con il suo stile è particolare perché lui si era creato questo personaggio, il riverente, poi lo sto dicendo come se non ci fosse più, Conkass c'è ancora, cioè grandissimo Conkass, adesso tu hai anche questo secondo canale, però sicuramente questo canale di Conkass Doquendo 98 che come me seguivano in tanti, in tantissimi, ci è dispiaciuto tanto, a me è dispiaciuto tanto questa notizia, io purtroppo non ho il tempo materiale di guardare moltissimi video, ma i suoi li seguivo, appena ne avevo il tempo, e soprattutto mi piacevano molto i gameplay, ma sui vlog proprio ha detto tante cose veramente profonde, adesso non so se quei video ce l'ha ancora in backup, e poi dopo li porterò ancora sul canale, perché sarebbe veramente una grave perdita, avrei perso proprio, io davvero, poi in alcuni mi sono anche commosso, proprio, bravo, 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 quindi, guarda, io appoggio la telecamera, voi sono a schermo nero, quindi non mi vedrete, ma io faccio un applauso da solo, che fare gli applausi da solo, sembra una cosa, ma per me è un valore, è un gran valore, e poi questo video è per te comunque, soprattutto, sto facendo per te, perché non meriti questa cosa che ti ha chiuso il canale, a me poi o roderei dentro se succedesse una cosa del genere, e niente, ciao, ciao da Svideo, ciao. e spero presto che fai riprendi con un altro canale, eccetera, oppure non so se vuoi continuare su questo, sul tuo secondo canale, non so cosa farai, comunque, questa cosa non ti doveva essere fatta, è proprio ingiusto, io ci rimango male perché è ingiusta sta cosa, va bene, ciao. ciao, 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 Grazie a tutti.